Da 12 anni organizziamo a Sberillo un piccolissimo borgo nel Fermano. Questo festival prende spunto dalla sacralità della montagna che in tutte le religioni, le tradizioni è il luogo di incontro con il divino per svolgere delle riflessioni sull'uomo in cerca delle terre alte. Ogni anno la montagna ci suggerisce una parola che quest'anno è respiro. Respiro perché nel 2020 un piccolissimo virus ha attaccato la nostra capacità di respirare, ha compromesso anche le nostre relazioni con gli altri proprio per il timore del respiro altrui e da qui è nata una grande occasione, quella di svolgere delle riflessioni verso la consapevolezza del respiro. Questo atto così automatico di fatto è arrivato all'attenzione, alla nostra attenzione. Su questo spunto abbiamo intessuto un intero programma che vede anche degli ospiti illustri, tutti rigorosamente incentrati sulla parola respiro intesa appunto come atto vitale, occasione importante, elemento essenziale della nostra vita, il primo e l'ultimo respiro ma anche nelle sue accezioni più simboliche come soffio di vita, l'alito che Dio insuffla sull'uomo nel momento della donazione della vita. Per parlare di tutto questo abbiamo moltissimi ospiti, sono oltre 30 eventi, fra i quali gli ospiti, solo per citarne alcuni, il premio Oscar Giuseppe Cederna, il cardinale Matteo Zuppi, il cardinale di Bologna, l'alpinista per eccellenza, lo scalatore di tutti gli 8.000 in invernale, Simone Moro, che dialogherà con il campione mondiale di apnea Mike Maric. Entrambi senza ossigeno per due motivi diametralmente opposti, dalla vetta all'abisso e quindi sarà curioso e interessante metterli a confronto. Altro ospite illustri, Neri Marco Re, che concluderà la serata del sabato in allegria. Quindi vi aspettiamo. Buongiorno Sindaco, la cultura dunque riparte dai borghi. Sì, grazie, buongiorno. Noi siamo veramente convinti di tutto ciò perché nei borghi, soprattutto dopo gli eventi del Covid, ci ha un po' insegnato questo isolamento che è diventato un po' una virtù. Siamo tre borghi dove verrà impiantato il festival, oltre ai Monti Sibillini, quindi diciamo alla montagna vera e propria, Smerillo, Monte Falcone e Montelione di Fermo. Sono tre borghi molto piccoli, nessuno supera i 400 abitanti, o siamo prossimi, dove non si compra e non si vende nulla. Quindi noi pensiamo che la cultura sia un ottimo intervento di rilancio, perché porta un turismo molto responsabile, compatibile con il nostro ambiente, che dobbiamo assolutamente salvaguardare, che è l'unica risorsa che abbiamo ereditato.